cari figlioli salve ben ritrovati siamo nuovamente in arc mi è venuta un pochettino la malsana idea di adomesticare il golem boss oppure o meglio quella cosa che ci viene data uccidendo il boss onestamente non ricordo se quando abbiamo ucciso la prima volta sotto il mare se vi ricordate sotto il lago se non sbaglio non ricordo che ci abbia droppato un qualcosa per evocarne un altro tamabile non lo so se è stato introdotto successivamente però l'ho letto e quindi ci proviamo ovviamente sarà un lavorone per me perché parto da in cima alla lista che ci chiede di uccidere tutti questi origini per poi poter evocare il golem per poi poter ucciderlo e ottenere così la pozione per evocare quello tamabile che poi sarà tamabile a cannonate purtroppo e i cannoni a me non piacciono è un addomesticamento un po così un po noioso tante volte lo uccidevo piuttosto che addomesticarlo e quindi le bestemmie si sprecavano veramente però vabbè dai proviamoci non so perché mi è venuta sta voglia dove andiamo a uccidere tutti gli origini andiamo qua sopra ma sì allora ci mettiamo qui guardate quante belle creaturine lì c'è un piccolo raptor origin a saperlo evitavo di farlo mannaccia se riesco a girarmi porca di quella miseria vieni che lo uccidiamo vediamo quanto dura il primal veramente dentro lo uccidiamo subito grazie capretta guarda sei veramente insostituibile va bene io me li faccio da solo taglio perché altrimenti poi il video durerebbe ore 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 e non va bene quelli quelli di terra prima vai così tutti insieme tutti insieme guardalo lui guardalo lui guardalo lui come arriva ok ci possiamo craftare il nostro bel boss vai ok figlioli ci siamo che dite lo evochiamo qua guardate siamo in questa zona direi non c'ho voglia di farlo col calbulgo di nuovo sotto l'acqua perché è lunga però vediamo se poi qua è troppo difficile ci facciamo seguire lo riportiamo in acqua adesso ci mettiamo qua su belli alti magari lo incastriamo qua vediamo allora evochiamo lo diamo se riesco a scapparlo si si spostati scappa vediamo no lassù scendi giù non andarti a inglicciare mannaccia la peppa si bravo mi facciamo solo 43 mila no non ci passa più oddio mi sono incastrato via dave ok guardate quanto cavolo mi toglie come livello disponibile non l'avevo già tutto livellato ah gli affarini qui brava capretta minchia l'ha preso al volo guarda la vita come scende basta fermati ah sono io che ho preso un livello a buono e che cosa mi do bo salute vai che posso ancora salire incredibile guardalo lì come tutto incazzato guarda che non può salire qua lui e poi c'è stacco viverna che fa veramente delle attacche a distanza assurdi vediamo se riesco a beccarlo di qua si facci fulminare perché non riesco a beccarla la manna ecco 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 così sì e lui non riesce a beccare me grande starò qua dieci giorni però 43 mila non mi passa più quanti milioni di punti vita vediamo che livello è a proposito anche sta visuale buggata allora è un livello perché non me lo dice ecco qua 44 ciao 90 milioni di punti con 43 mila ci sto veramente vent'anni non non però non è un modo di dire yes yes è andato mi ha dato quella roba lì scusatemi è e no non me la da ma porcaccia no allora figlioli mi sono proprio sbagliato non era il golem creatore che dovevamo uccidere ma un altro golem più piccolo che qua non spawna ma porcaccia di quella peppa ho perso due ore della mia vita così vabbè allora dovrebbe essere questo ce lo spawniamo così sì livello 35 direi che può andare ce lo spawniamo qui qui davanti vediamo un pochettino aspetta va bene va non so quanto sia potente credo che sia meno dell'altro io vado eh vai così oh piccolino sì vai 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 ci facciamo fuori subito oggi è già morto così no ma dai ma che tristezza ma mi ha dato qualcosa almeno sì me l'ha dato ok era tutto qui figlioli dai non ci credo due ore per fare tutto sta cosa e poi mi bastava uccidere sta scorreggina ma mannaccio vediamo se mi dà qualcos'altro dentro no proprio proprio debole sto a fare e vabbè ste cose non mi servono neanche no vediamo un pochettino ok ho dimostrato il mio valore contro il boss questo che abbiamo ucciso questo qua lo possiamo tamare fai attenzione e tamabili in più modi in modi normali a con i dardi normali si può tamare ok io pensavo solamente con con il cannone allora ancora più semplice allora guardate io vi lascio tutti qua vado per esempio qua su e ce lo ce lo facciamo qua sopra ci abbiamo ancora due proiettili oddio si è spenta la luce e vola santa madonna cristo la miseria porca miseria vola oh my god allora stavo dicendo qua c'è di tutto di più ma do quanti febol che ci sono guardate ci sono quattro febol oh mica male uno qui trike poi c'è il talpone poi c'è il cavallo poi qui dietro cosa c'è c'è un altro cavallo e beh però direi che come zona è abbastanza tranquilla sono tutti erbivoli tranquilli e ok vado allora questo qua vediamo è già carico sì ok perché sono appesantito no ma ha dato delle cose ma porca guarda quante robe che mi dà via no 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 ma ok ho buttato via un po di cose io direi che possiamo evocarlo qua ci mettiamo qua nell'angolino poi non so cos'è che mangia onestamente qui non lo di no vola please vai vediamo in alto vediamo un pochetto non lo dice vai come faccio consuma vai eccolo lì uh uh via 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 guardatelo ok vediamo un po che livello mi è uscito 44 ma non c'è niente di salute ma è una scorreggia sto affare dai guarda non lo spreco ne ha vabbè sì dai sprechiamo il proiettilone però veramente scarsino come si è già giù pensavo fosse molto molto più potente invece no vabbè mo cosa mangerà sto affare pietre credo io no mangerà le pietre o il sul furio vediamo un pochettino cacchio lo appena buttate le pietre a fa che vediamo un pochettino se le mangia fame fame al cibo già zero bene vediamo no tot e dolferro ti do questo ti do il sangue ti do questo qui mangia la carne domagna testa carne si si sta domesticando quindi però non ho capito con che cosa si con la carne o mio dio ci sta una vita però andiamoci a prendere l'altra carne beh no da neanche più di tanto vediamo sta già a metà si no a posto ok ok però poi ridamola che io questa mi serve non è che posso regalare carne così a tutti quanti dammela ok bene c'è già la c'è già la sella incorporata no che culo equipaggio a sella per cavalcare che due palli va bene c'è uscito un livello 61 con la bellezza di 259 mila punti vita quindi davvero poco che fa che fa oddio ha sganciato delle bombe guardalo guardalo sganciano con le bombe ok e va bene ha fatto strage però fai fai strage anche qua già che ci sei vai sgancia qualcosa anche lì sta sanguinando di brutto è oh my god cos'è figo oh mi piace fai vedere come stai con la vita ha messo maluccio occhio che ti attaccano ma fai il culo vai veloce vai vai sì bravo così bravissimo vieni sì fantastico vieni vieni ok eccola qui la sella livello 25 quindi a no livello 45 si può fare qui quindi abbastanza presto nella storia del gioco ok eccola qua ok ok guardate che bellino oddio bellino sì c'è c'è le conchiglie c'è la muffa c'è le alghe c'è cos'è c'è i funghi li crescono pure andiamo bene qua ci prendiamo qualche malattia va bene ci saliamo sopra ci mettiamo il suo una sua bella sella 11 livello si ammazza stava già morendo e vai vai con i punti vita ok pozioni devo prendere le pozioni che ho lasciato nella viverna credo dammi le pozioni non fare l'ingorda prendiamocene tutte va ci prendiamo anche le pozioncine così lo tiriamo super bene no questo qui è già incazzato guardatelo guardatelo come incazzato ma no l'ho fatto saltare non ci credo dai ma cosa sei sei incartonato non lo so ci siamo sopra finalmente to magnate ste cose revullati la vita per bene nel frattempo altra vita tienila già che ci siamo ci spostiamo tutte queste ok va bene vediamo un po il danno che fa dovrebbe avere un casino di tipi di attacchi vediamo un po questo qui come ce lo facciamo 1100 veramente poca roba per essere quello che è però vabbè per lei creature vanilla va bene allora tastino sinistro facciamo questo tastino destro spariamo i missili e mi piace oddio gli spara un po un po così sì ok gli spara anche abbastanza oh cazzo dritto ma porca caccia cioè non sono non sono quelle granché essere sinceri eh vabbè però sarei curioso di vedere il danno che fanno sti cannoni dai beccala questa caccia ma no non si becca rimane rimane fissa non si può mirare e ma che cacata vabbè tastino c wow non ho capito cos'è sta cosa però ne stane vediamo c'è tipo non lo so sta spruzzando spruzza non mi chiedo non mi domando da dove però spruzza d'altronde essendo una specie di di roccia con le cozze attaccate sopra spruzza acqua giustamente poi control che è ma che figo posso spawnare qualcosa oddio cosa sono ah sono i mi sfugge il nome sì beh questi qua ok dai buonino non so il danno che facciano però buonino e si minion io amo i minion vai attaccatemi qualcosa mi seguite vai fate così attaccatemi quello vediamo il danno che fanno che sono curioso guarda lì buono 300 dai confronto a lui sono oh che vuoi da me attacca loro mica me guarda non riesci attaccare vai vai smori mannaccia mi posso spawnare ancora quanti ne voglio no dai non ci credo ne posso a no me li ha mi ha tolto quelli di prima credo di sì sì sarebbe stata una figata accumularne tipo mille non lo so va bene livelliamocelo tutto che dite ma questi qua sono i small cominciamo con questi vai tutti tutti ne ho un disastro vai così ok vita io direi continuiamo a dargli vita che sale su davvero di pochissimo è però arriviamo un milioncino ci arriviamo ok da un milione già discreto vai così poi vigore credo che sia abbastanza ne diamo un pochettino peso non ci importa velocità mi sembra già buona vai col danno poi andiamo con le medium ok vai col danno finito basta tutto qua dai non siamo saliti tantissimi col danno beccalo please beccalo con i cannoni dai beccalo sì l'ho beccato 459 davvero poco 2000 facciamo dai non è terribile però vabbè un po così spariamo fuori gli uccellini vai attaccate uccellini stragi stragi uccellini e vediamo se sono diventati più potenti anche loro no loro sono rimasti uguali peccato c'è l'origin però credo proprio che non sia il caso o attaccatemi lui vai 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 credo che l'origin non sia il caso di oddio la vita devo refullarmi la vita veloce 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 oh mio 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 scappa dai scappa no aiutatemi aiutatemi no non mi attacca che culo uccellini vai riprovateci vediamo un po vediamo vediamo un po il danno che fa questo mi mille gli ho fatto eh sì no no non è non è no 19.000 uh via 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 che dite ce la faremo secondo me no ci schiapiccia o aiuto però noi con le pozioni forse ce la famo grazie capretta grazie capretta la capretta risolto tutto sempre mitica la nostra capretta vabbè cari figlioni dai io direi di concludere qua perché sennò dura davvero troppo 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 sto video è stata è stato un video sola questa dall'errore mio a sto sto ciofeca qui che più che altro fa le carezze li stiamo pettinando invece di colpirli vabbè cari figlioli nonostante tutto spero che il video vi sia piaciuto lui è cattivo è però mi raccomando lasciate un bel like condividete iscrivetevi al canale noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video ciao a tutti